Il tema del lavoro al centro della discussione nel Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Due le mozioni sul salario minimo approvate in aula. Una presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e l'altra dal Partito Democratico, firmata da Ilaria Bugetti. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà. Per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana, molti di essi sono persone che lavorano nel mondo, nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET, ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne, e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone, non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Le abbiamo mantenute distinte perché poi chiedevano due cose diverse, le abbiamo collegate, e quindi noi abbiamo votato la loro, loro hanno votato la nostra, noi abbiamo emendato ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle gli emendamenti che il PD ha presentato, e la nostra partiva dà la richiesta al Governo affinché non venisse soppresso, perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in Commissione parlamentare, Commissione lavoro, chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al Governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana, ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica Regione in Italia, aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD, ma con altre forze politiche, e quindi ci sembrava giusto, con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia, di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro, ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza, che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti, che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguardo è precario, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro, ma anche contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso e è una delle nostre battaglie principali. Le mozioni sono state approvate con il voto favorevole di PD e Movimento 5 Stelle. Critiche invece le opposizioni. Il tema del salario minimo è un tema importantissimo, è un tema, e io ringrazio veramente le opposizioni per aver fatto questo dibattito in Aula. Era impensabile che la Regione Toscana non affrontasse il dibattito su uno dei temi principali dell'agenda politica nazionale. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stavamo uscendo con grande difficoltà anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre, non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore, ma che si fa? A dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile, a quel punto la sposeremo anche noi. Io oggi continuo a pensare che se in Italia ci fosse il salario minimo garantito, già legge oggi alcuni grandi agglomerati economici, alcuni grandi multinazionali, alcuni grandi blocchi di potere economico che oggi sono costretti a ricorrere alla contrattazione collettiva nazionale, tra contrattazione collettiva nazionale e salario minimo, sceglierebbero il salario minimo per guadagnarci loro alla faccia dei lavoratori. Ma se poi uscirà fuori che il salario minimo è l'unica strada, va bene sposare quella. Votiamo contro la proposta dei 5 Stelle perché è un manifesto ideologico del Governo Conte e crediamo che il Governo Conte di danni ne abbia fatti talmente tanti che riproporli. Oggi ci sembra una follia. Via Libra del Consiglio al bilancio di esercizio 2022 di Arti, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego. Il bilancio è stato approvato con 17 voti favorevoli, PD e Italia Viva, e 8 contrari, Fratelli d'Italia e Lega. Soddisfazione espressa da Ilaria Bucetti, Presidente della Commissione Sviluppo Economico. I numeri parlano di un bilancio solido dove abbiamo registrato uno scostamento fra costi e ricavi che è stato poi giustificato anche dalla società che controlla le partecipate della regione toscana quindi sicuramente con una parte da destinare anche del disavanzo e quindi dell'utile d'esercizio stabilendo poi le percentuali con cui destinarlo e dove destinarlo. Con alcune piccole raccomandazioni ma con un'ottica prudenziale di previsione che giustifica poi questo scostamento fra costi e ricavi. Ma è stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di Arti nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana. Quindi abbiamo ribadito come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali, tanti che sono arrivati in questa regione e l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e coloro che cercano il lavoro. Quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta. Insieme a questo ci sono altri temi, quindi la parte dedicata alle persone con disabilità psichica e con ogni tipo di disabilità, dove vengono creati dei percorsi formativi insieme alle aziende, le persone che sono vittime di violenza, un'attenzione particolare alle crisi aziendali e quindi un collegamento, un raccordo forte con la direzione che si occupa delle crisi aziendali della regione toscana cercando di ricollocare le persone che perdono lavoro a causa di una crisi aziendale. 800 persone sono quelle che lavorano per arti, è un bel esercito di persone perché il valore del capitale umano è importantissimo per seguire in maniera più adeguata, precisa e capillare tutte le persone che cercano lavori, ognuno con il proprio profilo. Quindi questo è il grande lavoro che sta mettendo in piedi con grande impulso ed è stato ribadito in Commissione ma anche in Consiglio che noi stessi dobbiamo promuovere e far conoscere sui territori che questo importante strumento sta ottenendo successo, sta dando dei risultati e sta creando occupazione in Toscana. Quindi un bilancio molto positivo e anche un'incitazione a continuare su questa strada. Questo ordine del giorno in realtà è stato modificato perché chiedevano di andare a informare la banca dati con il nuovo sistema che è stato deliberato nel Ministero del Lavoro, con il sistema SISL che però normativamente ad oggi non è possibile perché, come ci ha detto la stessa Arti, normativamente non possiamo accedere a quei dati. Quindi abbiamo semplicemente fatto un ordine del giorno affinché ci sia una fotografia e un controllo continuo dei dati affinché si possa lavorare nella maniera migliore possibile. Quindi con monitoraggi anche trimestrali o quadrimestrali o quello che sarà per capire com'è la situazione di giorno in giorno perché ovviamente le cose cambiano e quindi per essere informati su quelle che sono le banche dati. Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia auspica un controllo di gestione più efficace e un monitoraggio più incisivo per evitare sprechi di risorse. Indubbiamente l'Agenzia regionale per l'impiego svolge oggi un ruolo fondamentale anche alla luce delle risorse importanti che sono arrivate sia dalla Regione ma soprattutto dal Governo nell'ottica di favorire le politiche attive del lavoro. E' chiaro che a questo aumento sia delle risorse in organico e naturalmente anche dei costi deve corrispondere dal nostro punto di vista anche un efficientamento della macchina. Questo significa che Arti deve funzionare come strumento oltre, anzi insieme ai centri per l'impiego per favorire quanto più possibile l'occupabilità. In questo senso io credo che l'ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza sposi questo tipo di approccio perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona. C'è un'esigenza che è quella di cercare di reinserire nel mondo del lavoro anche alla luce delle modifiche normative che hanno abolito il reddito di cittadinanza anche se in realtà è scorretto parlare di vera e propria abolizione soprattutto perché finalmente si riesce a distinguere tra persone che sono occupabili e che quindi possono essere inserite nel mondo del lavoro rispetto a chi invece naturalmente ha la necessità di avere tutt'oggi un sussidio perché non ha possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Se noi riusciamo a cogliere questa sfida, quindi portare al massimo valore le riforme normative e a utilizzare ciò che abbiamo in campo come regione toscana per rendere davvero questa regione una regione che crea occupazione, che crea lavoro, che inserisce giovani, che inserisce le persone che in qualche modo sono potenzialmente adatte ancora oggi a dare qualcosa al mercato del lavoro a cominciare anche da kipper del lavoro ad esempio per crisi aziendali io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere. In questo senso monitorare l'attività di arti è fondamentale. Indubbiamente la regione toscana ha caratteristiche in base a territori anche differenti pensiamo a diversi distretti di produzione ed è chiaro che un coinvolgimento delle imprese sui territori rispetto anche a una politica di formazione è importante quindi sicuramente il riuscire a distribuire anche le sedi di arti sul territorio regionale deve comunque riuscire a favorire questo tipo di incontro diverso se l'apertura di queste sedi diventa invece solo ed esclusivamente un centro di costo ed ecco anche da questo punto di vista l'importante di un monitoraggio e di un controllo costante. Questo è un premio importante l'abbiamo voluto consegnare ad un giovane studente Alessandro Dioni che qualche mese fa a luglio ha salvato con un gesto importante il babbo di un suo amico che ha avuto purtroppo un arresto cardiaco. Così il presidente del consiglio regionale Antonio Masseo ha motivato la consegna delle ali del Pegaso il premio nato per valorizzare i gesti di ragazze e ragazzi toscani ad Alessandro Dioni non voltarsi dall'altra parte e mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare vite umane. Abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio un messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane e questo è quello che ha fatto Alessandro un defibrillatore, la possibilità di saperlo usare quindi la formazione, anche questa è molto importante che ha permesso di salvare una vita umana allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e a sapere utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare le vite umane. Alessandro Dioni ha raccontato la sua esperienza. Eravamo una sera alla cena di fine Campi Solari tutti insieme a festeggiare appunto la ben riuscita del mese che avevamo passato tutti insieme, assieme ai ragazzi piccinini che controllavamo infatti io ero un animatore insieme a altri ragazzi che anche oggi sono qua con me alcuni e nulla, a un certo punto della serata quando tutto era finito e molti erano già andati a casa Marcello che è il signore che ha avuto un infarto appunto si è sentito male e è caduto a terra ha subito iniziato a respirare male e poi io mi sono avvicinato insieme a un altro signore mentre alcuni ragazzi hanno portato via i bambini più piccoli e in particolare suo figlio io appunto mi sono precipitato da Marcello e ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco e ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era una lì in parrocchia allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio e io invece insieme ad un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele e poi in seguito ho attaccato le piastre ho dato tre scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza ho imparato a scuola grazie al professor Gallastroni che oggi è di là insieme a me e a scuola infatti abbiamo un defibrillatore scolastico appunto un defibrillatore che è uguale a quello che dà la scossa ma poi non dà la scossa insomma e appunto grazie alle lezioni che abbiamo fatto a scuola due lezioni sono riuscito a mettere in pratica quello che avevo già visto e fatto sul manichino presente alla premiazione anche Daniele Gallastroni professore di scienze motorie del liceo Petrarca di Arezzo è un progetto è un progetto che noi facciamo dalla prima superiore lo portiamo fino alla quinta superiore è un progetto fra 118 fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo e abbiamo fatto formazione noi noi stessi è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD quindi della rianimazione sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore in quinta superiore poi i ragazzi chi vuole può fare l'abilitazione e quindi arriva il 118 da noi fanno un esame sia scritto che pratico soprattutto e poi chiaramente accedono a quello che sarà il diplomino che viene rilasciato e quindi l'abilitazione conseguente io appunto con Alessandro con questa classe ho iniziato dalla prima abbiamo diciamo fatto diverse lezioni e chiaramente guardiamo anche la casistica e appunto utilizziamo un defibrillatore didattico utilizziamo il manichino per il massaggio cardiaco in modo che la procedura del BLSD che è una procedura è un protocollo internazionale sia ben chiara l'obiettivo è chiaramente istruire più persone possibili perché l'abbiamo già capito se abbiamo vicino uno che può fare ciò è comunque una garanzia è una sicurezza grazie a tutti grazie a tutti